Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video Oggi vi porterò un gioco di magia molto semplice ma di grande impatto agli spettatori Se volete acquistare il mazzo che utilizzo adesso lascerò il sito in descrizione così lo potete comprare tranquillamente Iscrivetevi nel mio canale Instagram che vi lascerò sempre il link in descrizione Attivate la campanellina per restare aggiornati nei prossimi video Ho detto tutto, spero vi piaccia, buona visione Bene ragazzi, andiamo a scegliere una carta qualsiasi in mezzo al mazzo Ad esempio questa, il 4 di quadri Dopodiché andiamo a posizionarla più o meno in mezzo E immaginiamo di prendere un colore, un colore rosso E dipingere la vostra carta di rosso, così Coloriamo, coloriamo E batto un gesto magico Che ora nel mazzo blu c'è solo una carta di dorso rosso Ma questa carta di dorso rosso non è una carta qualsiasi Ma è bensì il 4 di quadri, la carta scelta Il 4 di quadri lo appoggio qua nel tavolo E dopodiché vado a scegliere un'altra carta, così Guardate, ricordatevola Così di nuovo in mezzo Lo rifacciamo Dipingiamo la carta di rosso, così E' una carta rossa E' una carta rossa Grazie Spero che questo video vi sia piaciuto Se si, lasciate un like, un commento Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto Passate alla mia pagina Facebook Che vi lascerò il link in descrizione Da Magic League è tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao